Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo, regime anticiclonico sull'Italia come possiamo osservare dal satellite, una bella giornata con ampie aperture del cielo ad eccezione di un po' di nuvolosità irregolare al nord ovest e su parte delle Venezie ma senza pioggia, nei prossimi giorni la Liguria vedrà quasi esclusivamente la Liguria delle precipitazioni. Bello anche al sud solo un po' di residua variabilità sul basso tirreno, strascichi di ventilazione di maestrale. Andiamo al dettaglio, la ottobrata che interesserà tutta Italia in questo avvio di settimana nei prossimi giorni con temperature in aumento, alta pressione subotropicale, dei disturbi solo al nord ovest con piogge più vicini che interesseranno quasi esclusivamente la Liguria però insomma da giovedì qualcosina in arrivo anche per Lombardia e Piemonte qui tanta variabilità nubi irregolari alternate a qualche schiarita. Bello sole altrove con temperature che sulle due isole maggiori raggiungeranno anche i 22-24 gradi ma guardate anche sulla parte adriatica qualche punta fino a 22-23 gradi. Per quanto riguarda i cambiamenti probabilmente nel fine settimana si abbasserà il flusso oceanico dal nord Europa e quindi l'alta pressione ancora su parte del centro sud mentre delle piogge avanzeranno al nord e sull'alto versante tirrenico. Ne riparleremo perché comunque potrebbe essere un impulso instabile che domenica raggiungerà il centro sud in maniera molto rapida. Tutti i dettagli come sempre scaricando l'app di Trebimeteo.